Finita la partita con Oderzo, ha salvato lo scarto per fortuna, siamo col capitano Ricky Rota, come l'hai vista? Abbiamo fatto una partita sotto tono, siamo arrivati alla partita non concentrati, abbiamo fatto un primo tempo giocato male, abbiamo sbagliato molte difese in attacco, non siamo stati precisi, abbiamo fatto poco gioco di squadra e poi nel secondo tempo abbiamo provato a mettere più energie, però non sono bastate, infatti il risultato si è visto, abbiamo fatto una partita in seguire, quindi il risultato è una sconfitta. 32esima partita della stagione, quindi praticamente contando l'Under-19 eccellenza che vale questo campionato, avete finito, potreste andare in ferie rispetto a una squadra, vi sta pesando o riuscite a gestirla? No, no, per riuscire a gestire possiamo tranquillamente gestire, siamo una squadra giovane, le energie ne abbiamo, sono tante partite, lo sapevamo già, anche l'anno scorso alcuni hanno fatto un doppio campionato, è un impegno che abbiamo tutti deciso di prendere e quindi la motivazione della stanchezza è quasi inutile dirla, bisogna mettere più testa e più energia perché partite come queste sono proprio partite sprecate.